A volte non ti rendi conto della tua forza finché non ti troverai faccia a faccia con la tua più grande debolezza. Ebbene sì, perché questo è quello che fa fare un salto nella tua vita, fa fare un grandissimo passo avanti. Quando tu ti interfacci con il tuo lato debole, le cose che a te non piacciono e le affronti, è proprio lì che scoprerai un lato di te che non pensavi manco esistesse. Ed è lì dove la maggior parte delle persone si fermano, perché giustamente è molto più scomodo dover affrontare dei problemi propri, poi soprattutto se sono personali, no? Da ancora più fastidio, anziché lasciar perdere e far andare bene le cose così. E no, è proprio lì che si sbaglia. Bisogna affrontare le cose che non ci piacciono nella propria vita, per far sì che poi arriverà sicuramente un lato migliore di noi, tantissime cose nuove. Però affronta la tua debolezza, subito!